e benvenuti Villa Cerchiari. Due comunicazioni di servizio, anzi una. Qui davanti ci sono dei posti che noi abbiamo riservato agli iscritti di Eventbrite, che si è registrato via email. Se voleste occuparle, anzi, vi invito magari quelli degli ultimi figli a passare davanti, mi sembra essere un po' il prete in chiesa che dice voi laggiù che siete in fondo venite avanti che c'è posto. Ecco, bravi gli audaci, ci piaci e quindi avanti. Bene, buonasera a tutti, nuovamente, benvenuti a questa nuova settimana di Profumo di Carta. La scorsa è stata molto produttiva e di questo siamo felici. Vi do il benvenuto in Villa Cerchiari, che è la sede della biblioteca comunale, ma questa sera, in queste due settimane, è la sede principale degli eventi di Profumo di Carta. Questa sera conosciamo Matteo Struccul, conosciamolo, dico io che lo conosco, però molti di voi già lo conoscono. Vincitore del premio Bancarella 2017, è stato definito scrittore italiano rivelazione dell'anno. Ha pubblicato diversi romanzi, l'ultimo, l'ultima serie è quella sui medici. stasera conosceremo l'ultimo prodotto, l'ultimo romanzo scritto. Ci piace pensare che una persona che vive tra Padova, Berlino e Transilvania, come dice lui, stasera inizia un lungo tour che prendo testualmente dalla pagina Facebook, dalla sua pagina, un lungo tour che toccherà anche Roma, Milano, Firenze, Padova e tantissime altre città della mia amata Italia. Parto, aggiungo io però, da Isola Vicentina. Quindi stasera inizia questo tour e speriamo che questa serata sia di buono auspicio. Buona serata a tutti e grazie. A me spetta il compito di fare il non presentatore, nel senso che non è il mio compito fare il classico presentatore di libri ma semplicemente reinquadrarvi Matteo Strucull, che il sindaco vi ha già in qualche modo anticipato. La cosa particolare di Matteo è che una volta scriveva tutt'altro genere di libri, cioè alla grande massa, visto il numero di copie vendute della trilogia dei Medici, che significa grande massa nel piccolo mercato del libro italiano, che non mi stanco mai di ricordare, che ha un fatturato inferiore alla sezione Nutella della Ferrero, il mercato del libro tutto intero, un miliardo e 300 milioni che continuano a diminuire. Però insomma Matteo Strucull è in questo momento quello che si dice autore di best seller, che supera le 100 mila copie per libro. Di questa dinastia ha il potere appunto. Allora Matteo Strucull ha un suo curriculum, innanzitutto è laureato in legge, e addirittura con una specializzazione in diritto europeo, una cosa quindi totalmente lontana ed estranea dalla narrativa di fantasia che lui aveva percorso, ha percorso nel suo percorso appunto di scrittore, con una premiata casa editrice che le ho, fondando insieme ad altri autori come Massimo Carlotto una collana mitica, percorrendo anche le strade del noir, di tutta una serie, quindi un percorso e poi improvvisamente ci sorprende con i medici, ma non tanto, non troppo probabilmente ce lo sguardo. Quindi per me è inconsueto, anche come libbraio, avere un autore che siamo abituati a degli autori che hanno i loro filoni, alcuni in maniera totalmente seriale anche nell'ambito appunto della giallistica, ne abbiamo conosciuto uno proprio qui l'altra sera, Alberto Mattino, che comunque tocca sempre temi della cosiddetta storia minima, però fa libri gialli, ma abbiamo citato anche l'altra sera i Camilleri, i Manzini, i Malbaldi e così via. Matteo Struculli invece ha scritto delle cose e poi ci ha sorpreso con questa cosa, per cui voi potete immaginare quando mi viene un rappresentante di libri a prenotare il nuovo libro di Matteo Struculli, i medici. Un uomo al potere, no, la dinastia al potere con il primo, ecco. Boh, che roba è. Anche perché bisogna dire, anche questo nel mercato del libro italiano, che il cosiddetto romanzo storico insomma non è che goda di una salute straordinaria, c'è una selezionata categoria di persone che adora i romanzi storici, ma non è che insomma, anche se è raffinatissima letteratura quella dei romanzi storici. E quindi lo abbiamo aspettato al barco, lo abbiamo aspettato talmente al barco che quando poi è scoppiato, come si suol dire, tutti quanti a dire, bello, lo Struculli ci sta sorprendendo. Allora io ti lascio la parola e quindi qui mi fermo perché vorrei che tu nella tua narrazione di stasera, in fin dei conti, gli autori che si siedono qui ci raccontano storie e ci spiegassi un po' la tua storia, la tua storia letteraria e la tua storia professionale perché tu fai anche dell'altro oltre che scrivere libri, romanzi, ricerche storiche, magari scrivi anche altre cose o labori o giornali o fai altro. Quindi come metti insieme, oppure se l'hai totalmente abbandonata, la tua laurea in legge con prima la letteratura e poi questo genere di libri che tanto successo ti ha dato e ti auguro che continui a darti. Beh allora, innanzitutto grazie ad Alberto Galla, insomma, libreria mitica che io ho imparato da Margaret, un grande amico che è qui questa sera, è di Vicenza e credo di aver presentato il mio primo romanzo proprio da Galla, Vicenza sicuramente come poi tanti altri, ma sono cambiate tante cose, devo dire che, innanzitutto grazie per avermi ospitato in questo luogo meraviglioso, non lo conoscevo, la cosa bella del Veneto è che, dici, beh questa sera siamo a Isola Vicentina, a Villa Cerchiari, io francamente non la conosco, così come quando mi hanno invitato a Riese, Pio Decimo, in un'altra villa strepitosa, che è più vicino diciamo a casa mia, perché sono spesso malato un po' leopardianamente diciamo, e quindi mi ammalavo e la prima cosa che veniva fatta quando ero bimbo era che mi raccontavano le storie o le zie o mia mamma o le nonne eccetera, io mi ricordo che a furia di ascoltare le storie a un certo punto cominciai a leggere, quindi poco prima di iniziare la prima elementare avevo già più o meno imparato a leggere la prima storia che lessi fu Liliade di Omero, per partire subito con delle buone letture, secondo me è importante, e ricordo che da sempre mi rimase questa storia di grande avventura, di sangue, di amore, di sentimenti, di tradimenti, di intrigo, tanto che io sono sempre stato, non so se poi ha senso questa divisione tra i lettori dell'Iliade e i lettori dell'Odissea, però con mio padre c'era questo gioco che stavo io da una parte o dall'altra e in famiglia tutti ti favano Odissea e io dicevo no, a me piace di più l'Iliade, perché quando Ettore va ad affrontare Achille e lascia Andromaca davanti alle porte C'è e affronta un uomo che sa che lo sconfiggerà e ciò nonostante lo affronta con una carica romantica mi viene a dire, nel senso che tu sai che perderai eppure vai per onore per difendere la città che ami, il popolo in cui credi eccetera eccetera e nonostante questo non è che poi puoi barare, va a finire esattamente come ti immaginavi, cioè perdi il duello, muori e vieni addirittura trainato, legato al carro di Achille per il campo dei Greci e vieni massacrato quindi voglio dire, nessuno farebbe una cosa del genere sapendo che andrà a finire così visto che l'altro è un uomo invulnerabile che può essere colpito solo a un tallone perché è stato immerso nell'acqua, vabbè ve la risparmio, parto da di qua e poi è stata una lettura continua di storie dai sei anni fino ad oggi tuttora, io sono anzitutto un lettore per cui da lettore con il primo romanzo che apparentemente non c'entra niente, in effetti con i medici sono perfettamente d'accordo però racconto una storia che non trovavo come lettore nella letteratura italiana, cioè mi piaceva raccontare una storia nera, insomma in qualche modo criminale che però avesse per protagonista una donna perché di solito in queste storie qui c'è sempre un detective probabilmente divorziato, magari alcolizzato eccetera eccetera non c'è mai una donna protagonista, l'ho detto io ci metto una donna protagonista, faccio questo primo romanzo che va bene, l'editore me ne chiede un altro, poi un terzo, nel frattempo siccome queste storie erano piaciute molto a Mondadori, mi telefono a Mondadori come nelle fiabe e mi dice buongiorno Matteo Strucul siamo di Mondadori, vorremmo farle scrivere un romanzo e dico bene, mi fa piacere che mi chiami Mondadori, però ci devi fare una storia di Mila e io dico no non farò mai una storia di Mila perché c'è un editore con cui ho scritto la prima, la seconda e scriverò la terza storia che ha creduto in me fino all'inizio insieme a Massimo Carlotto e insomma a tutta la casa editrice per cui se volete io con voi scrivo qualsiasi cosa, Mila no, vi faccio una storia sulla padova dell'ottocento, ah ma l'ottocento non vende, è un suicidio perché ci propone questa cosa eccetera, insomma gli dico vabbè io voglio fare questa storia, me la fate scrivere oppure no? Sì va bene questo è l'anticipo, boh, scrivo questa storia che è un thriller storico e quindi già un po' mi avvicino ai medici lentamente ed è una specie di romanzo che io definirei scapigliato nel senso che tutti dicono è un romanzo vittoriano ambientato a padova, no, nell'ottocento non c'era il romanzo vittoriano in Italia perché stava giustamente a Londra, in Inghilterra eccetera eccetera, c'era il romanzo scapigliato di Gino Ugo Tarchetti per dirne uno, penso a Fosca e quindi io scrivo un romanzo un po' di questo tipo con queste atmosfere un po' gotiche ambientate nella padova di fino a ottocento in cui c'è un assassino seriale che uccide le prostitute del portello, scrivo questa storia, c'è un indagine con vari detective o ispettori che dir si voglia, per la verità c'è un criminologo che si rifà il positivismo giuridico di Lombroso che ricordo è veronese, quindi insomma è un po' un omaggio al Veneto che faccio e racconto la padova come era in quegli anni, quindi cambio tutte le vie perché non si chiamavano piazza, non so per dire piazza dei signori si chiamava piazza Unità d'Italia, in piazza Unità d'Italia c'era la sede di un giornale dell'ottocento che era l'Euganeo, quindi vado in biblioteca, mi documento, comincio a leggermi i giornali dell'ottocento e insomma un po' alla volta scrivo questa storia, questa storia grazie a Dio funziona, faccio altri due romanzi, salto un po' e arrivo ai giorni più recenti, uno dei quali è una storia ambientata in Transilvania con i cavalieri teutonici nel medioevo del 1200 e quindi dico, sempre per quella famosa ragione per cui mi piace provare a raccontare le storie che non leggo come lettore, cioè vorrei leggerle ma non le trovo, esempio la saga di Mila, esempio l'ottocento Veneto eccetera eccetera, dico oi boh, tutti hanno scritto saggi sui medici ma nessuno ha scritto romanzi, soprattutto non ci sono autori italiani che hanno scritto romanzi su Lorenzo il Magnifico e su Cosimo il Vecchio e a questo punto direi nemmeno su Maria de' Medici mentre su Caterina qualcosa almeno all'estero hanno fatto e dico beh insomma sono italiano, sono padovano, comincio a studiare un po' la serie de' Medici, scopro che Cosimo de' Medici viene esiliato a Padova, da Firenze nel 1433 viene condannato all'esilio e viene esiliato a Padova quindi la mia città e dico beh questo è un segno del destino, se potevo avere qualche remora sul fatto che non essendo toscano forse non potevo scrivere dei medici eccetera adesso ho anche la giustificazione per cui comincio a studiare di più e grazie alla mia gente incontro Raffaello Avanzini l'editore diciamo di Newton Compton, parliamo del progetto, grande entusiasmo e ci mettiamo d'accordo per una trilogia io dico sì entusiasta eccetera eccetera e poi penso che però devo scrivere e penso che conoscendo insomma parlando con l'editore ci muoviamo su un'idea di scrivere una trilogia da chiaramente tre libri dove però ognuno deve aggirarsi più o meno sul classico romanzo storico da 400 pagine, faccio due conti, viene fuori mille e due e dico sono rovinato però ormai siamo già d'accordo e tutto e quindi a quel punto la devo fare e quindi comincio a scrivere, in realtà comincio a studiare e più studio e meno scrivo perché in realtà poi tu cerchi di imparare come si vestivano, come era la città ad esempio che ne so io mi immaginavo che ci fossero sul Ponte Vecchio ci fossero i macellai eccetera eccetera i venditori di frutti vendoli eccetera eccetera perché da qualche parte ho letto questa cosa dopodiché mi metto a fare ricerca e scopro che in realtà nel 1430 quando più o meno comincia la saga che inizio a raccontare i macellai sul Ponte Vecchio non ci stavano neanche in foto anzi avevano proprio il problema che siccome macellavano le bestie nelle vie della città le vie della città erano costantemente cosparse, piene di avanzi, di carne macellata, di sangue eccetera tanto che a un certo punto all'interno della prima parte del libro in un capitolo racconto proprio di, se non ricordo male, Lorenzo, fratello di Cosimo o forse Cosimo che sta camminando in una via e gli arrivano gli effluvi delle carni eccetera perché i macellai macellavano nelle vie e questa è una piccolissima, un piccolissimo aneddoto di una storia che ovviamente si nutre di tutti questi dettagli per cui devi sapere che le dame in quel periodo avevano vestiti senza maniche perché le maniche erano un elemento di seduzione del vestito e venivano cucite, realizzate a parte con tutto un sistema di intreccio, di fili eccetera eccetera proprio per, come dire, giocare un po' su, così, veramente lo scoprire appena l'omero della spalla che in qualche modo rappresentava un fortissimo elemento di seduzione per il periodo e quindi in realtà hai questi vestiti che sono sempre smanicati e le maniche vengono, come dire, realizzate a parte oppure scopri, sempre studiando come un pazzo negli archivi, nei registri di commercio del tempo per cui vai alla fondazione Cini, vai perché i medici avevano anche un'importantissima filiale del banco medici a Venezia e scopri per esempio che in un registro di commercio consegnate 50 vesti allucciolate di perle io comincio a pensare, ma che è sta roba che allucciolavano di perle le vesti cosa significa, non riesco a capire allora comincio a cercare eccetera eccetera a un certo punto scopro in una specie di prontuario delle parole che venivano utilizzate in quel periodo che allucciolare è il termine che significa o meglio che viene utilizzato per le perle quando vengono utilizzate per trapuntare la veste che poteva per esempio essere in seta nel 1400 la veste era tendenzialmente a tinta unita veniva ovviamente colorata con i colori che poi si ottenevano attraverso determinate misture e l'effetto di queste perle che trapuntavano immaginate, che ne so, un vestito di seta azzurra era quello di una, come dire, una sorta di effetto lucciola come se fossero lucciole in un cielo notturno da qui il termine allucciolato di perle come se le perle fossero le lucciole in un cielo notturno e lo sfondo del cielo era chiaramente il vestito ecco, tutto questo per dirvi quanta ricerca ci sia prima di stendere una sola riga per cui poi studio la cupola di Filippo Brunelleschi perché ovviamente, come dire, il Duomo di Firenze Santa Maria del Fiore rimane per oltre cent'anni senza copertura tanto che i fiorentini andavano a Santa Maria del Fiore in una chiesa che è rimasta scoperchiata per cent'anni cioè senza cupola finalmente arriva Brunelleschi che propone questo questo modello insieme a Ghiberti che poi viene scelto e poi lui comincia a realizzare questa cupola poi magari vi spiego più nel dettaglio comunque insomma studio un mese e mezzo la cupola alla fine finalmente faccio il primo capitolo dopo che nel frattempo ho studiato un altro anno prima tutto il resto che vi ho detto e dico, vabbè, ok, ho fatto il primo capitolo in cui Cosimo incontra Filippo Brunelleschi sulla cupola e gli viene annunciato che suo padre sta morendo eccetera eccetera e dico, vabbè, però siamo rovinati perché adesso ho fatto un capitolo mi mancano altri tre romanzi dove vado? e lì capisco perché nessuno aveva scritto i romanzi sui medici e ho detto, sono stato un pirla tecnicamente, mi definirei così e a quel punto però ero in ballo per cui un po' continuando a studiare un po' scrivendo e studiando le storie fiorentine di Niccolò Machiavelli che racconta per filo e per segno quello che avviene negli anni tra il 400 e il 500 e quindi le storie di Cosimo il Vecchio e di Lorenzo il Magnifico mi salvo e comincio, come dire, ad avere tutta una serie di fatti che metto in fila di modo che voi troverete se leggerete, avete già letto non lo so, i romanzi che ad esempio quando io racconto di Bernardo Guadagni gonfaloniere di giustizia di Firenze che viene corrotto da Rinaldo degli Albizi che era nemico giurato di Cosimo de' Medici e lo corrompe insieme a Pallastrozza e gli dà mille fiorini affinché condanni Cosimo a morte e Bernardo Guadagni dice benissimo datemi questi mille fiorini che ci penso io tra un modo per condannarlo ecco, questo è un fatto che è realmente accaduto così come è realmente accaduto che poi Cosimo si salva corrompendo una seconda volta Bernardo Guadagni attraverso la moglie e promettendogli mille e cento fiorini se invece di condannarlo a morte l'avesse soltanto esiliato ecco, queste sono due cose che io racconto all'interno della storia del primo romanzo quando Cosimo viene mandato a prendere dalle guardie di notte viene messo all'alberghetto nella torre di Arnolfo di Cambio di Palazzo Vecchio che se siete stati a Firenze immagino avrete visto Palazzo della Signoria insomma, eccetera lui viene messo nella torre in questa cella e poi si salva fondamentalmente perché corrompe il conferimento di giustizia e questi fatti lì si trovano tranquillamente come dire nelle cronache appunto nell'istoria fiorentina e di Niccolò Machiavelli così come poi si trovano tanti altri fatti bisogna naturalmente stare attenti perché ad esempio Machiavelli a un certo punto quando racconta la famosa battaglia di Anghiari dice che ci fu soltanto un morto e liquida la battaglia molto rapidamente in realtà anche lì mi puzzava vado a studiarmi una serie di saggi che raccontano la battaglia di Anghiari con il ponte delle Forche con i veneziani alleati dei fiorentini con i milanesi che marciano su Firenze e che se avessero conquistato Anghiari avrebbero probabilmente spazzato Firenze e addio rinascimento cioè noi oggi il rinascimento non lo avremmo avuto fortuna vuole che invece in questa battaglia di Anghiari i veneziani e i fiorentini siano alleati questa specie di sortita in cui i milanesi fingono di rientrare a Milano in realtà si mettono a correre su questa spianata cercando di prendere di sorpresa i fiorentini viene vista dalle truppe veneziane che al ponte delle Forche creano una specie di barriera sono in numero minore vengono massacrati però intanto aiutano cioè danno la possibilità ai fiorentini di difendersi di arrivare anch'essi al ponte delle Forche di bombardare con le bombarde i milanesi di attaccarli diciamo di lato sull'ala con i balestrieri genovesi quindi abbiamo immaginate questa cosa straordinaria veneziani fiorentini e i genovesi tutti dalla stessa parte ha dell'incredibile a dirlo oggi eppure insomma sconfiggono i milanesi e a quel punto salvano Firenze e studiando le varie come dire monografie i vari saggi di storia militare sulla battaglia di Anghiari ci si rende conto che ci furono ben più di un morto insomma i morti furono parecchi in realtà ecco io diciamo nel primo romanzo racconto quest'arco temporale dal 1429 al 1453 quindi Cosimo che eredita l'impero finanziario del padre Giovanni dei medici Cosimo che è un fratello Lorenzo Cosimo che è più amante dell'arte Lorenzo più invece legato Lorenzo il vecchio attenzione più legato come dire alla banca e se vogliamo anche alla gestione finanziaria della famiglia Cosimo che viene imprigionato e messo all'alberghetto che poi viene esiliato prima a Padova e poi a Venezia e che poi viene di cui viene invocato il ritorno perché gli albizi e gli strozzi che avevano cacciato i medici si riveleranno come dire dei tiranni sanguinari che vesceranno la popolazione fiorentina di tasse che soprattutto passarono il tempo a fare la guerra i fiorentini invece volevano pace perché nella pace potevano finalmente commerciare ed arricchirsi come poi avverrà e quindi richiamano a gran voce Cosimo e stavolta esiliano Albizzi e Strozzi Albizzi andrà su a Milano dai dai Visconti si allera con loro tornerà e perderà nella battaglia di Anghiari contro Cosimo e Lorenzo e questo è un po' come dire il quadro che voi trovate nel primo romanzo certo c'è Filippo Brunelleschi c'è la cupola c'è l'amore di Cosimo per Contessina sua moglie insomma ci sono c'è la guerra contro Luca c'è il concilio ecumenico in cui riuniscono le chiese greca e latina perché a Ferrara c'era stata la peste i medici pagano per 4.000 persone che sono più che pagano diciamo prestano il denaro insomma tassi lasciamo perdere di che tipo però fanno in modo che il Basileus di Costantinopoli arriva a Firenze esposta nel concilio lì insomma c'è tutto questo nel secondo romanzo invece trovate Lorenzo De Medici e ecco il secondo romanzo è stato un'altra cosa terribile nel senso che cioè a livello di sofferenza nel senso che devo raccontare Lorenzo il Magnifico e Leonardo Da Vinci un altro personaggino e lì effettivamente devo dire che dopo che avevo affrontato il primo romanzo ho detto bene questo l'ho fatto ne mancano solo due comincio il secondo e dico stiamo messi ancora peggio perché cosa dico di Leonardo Da Vinci cioè è un personaggio talmente iconico e talmente straordinario talmente geniale che scriverne ti fa davvero paura perché ti chiedi se sarà in grado di rendere quel personaggio storico nel modo in cui effettivamente era per quello che tu riesci a scoprire studiando perché non hai altro guardando le sue tele andandoti a vedere gli schizzi studiando la storia della scrittura a specchio insomma scoprendo ad esempio che viene effettivamente condannato per sodomia nel 1436 perché viene fatta una denuncia anonima in cui viene dichiarato come sodomita e purtroppo una accusa di questo tipo portava nella civilissima Firenze a differenza che in tutta Italia dove una pena di questo tipo portava alla morte nel caso di Firenze c'era soltanto l'evirazione perché erano più civili e quindi non lo uccidevano insomma era una punizione forse addirittura peggiore e questo fatto questo processo che io racconto è un processo realmente avvenuto così come per esempio racconto dopo averla studiata come un folle anzi come un pazzo nel testo di Franco Cardini la congiura dei pazzi non so se l'avete se la conoscete insomma però è quella storia per cui i pazzi alleati con il Papa Sisto IV e con Girola Moriario concepiscono una congiura la mattina della Pasqua del 1478 quindi scelgono anche in realtà avrebbero dovuto farlo due giorni prima ma non fu possibile quindi insomma trovano un piano B e il piano B è uccidere Lorenzo il Magnifico e suo fratello Giuliano in cattedrale a Santa Maria del Fiore il giorno di Pasqua quindi con grande buon gusto scelgono di farlo durante la messa di Pasqua e succede che effettivamente Giuliano viene ammazzato da Francesco De Pazzi e tutti i suoi accoliti con una ventina di coltellate cioè questo per darvi un'idea dell'efferatezza perché poi si dice rinascimento c'è Leonardo da Vinci c'è Brunelleschi c'è Michelangelo c'è Raffaello c'è Donatello però ci sono anche queste storie qui addirittura Francesco De Pazzi mentre pugnala Giuliano è talmente come dire consumato dalla lacrimonia dalla rabbia nei confronti dei medici che odia da anni che finisce per sbagliare per mancare alla diciannovesima coltellata Giuliano che chiaramente è già morto e si pugnala la coscia da solo cioè sbaglia il colpo a Giuliano steso praticamente agonizzante su di lui e arriva come dire colpirsi ferirsi con il pugnale tanto che rischia di morire di sanguato lì fugge a casa e a casa viene salvato dal suo fratello che chiama un cerusico che riesce in qualche modo a come dire fermargli l'emorragia che lui stesso si è causato e quando poi i pazzi che non riescono a uccidere Lorenzo perché Lorenzo si rifugia in sagrestia il suo fratello è morto lui si salva per un pelo tra l'altro viene comunque ferito alla spalla viene portato a Palazzo Medici e viene in qualche modo gli vengono prestate le cure lui dice non voglio più sapere nulla e il suo partito il partito medicio dei suoi alleati decide che per i successivi nove giorni i pazzi e tutti gli alleati dei pazzi verranno sterminati tanto che si legge le acque dell'Arno si fecero rosse per il sangue che fu versato in quei giorni per cui è una storia che a raccontarla insomma ha molto di selvaggio di violento di sembra di leggere voglio dire un dramma di Shakespeare in realtà sono fatti avvenuti per cui certo il rinascimento ha tutto quello afflato straordinario legato alla bellezza all'arte come vi dicevo prima alle soluzioni incredibili come la cupola eccetera eccetera come il viaggio dei magi di Michelozzo come i dipinti di Leonardo che in realtà arriveranno un po' dopo pensate a Raffaello a Donatello a Ghirlandaio a Paolo Uccello c'è un numero di artisti infinito in quegli anni però ci sono anche queste storie di sangue allucinanti così come c'è il triangolo amoroso tra Lorenzo De Medici alcuni dicono che fu più platonico altri dicono che lo fu un po' meno fatto sta che lui a vent'anni era perdutamente innamorato della donna più bella di Firenze che è Lucrezia Donati addirittura il romanzo lo apro così come accadde lui ventenne vinse questo torneo che era stato dato in onore di Braccio Martelli suo amico fraterno che si sposava in quei giorni lui sale a cavallo sconfigge l'avversario lo disarciona prende i colori il fazzoletto diciamo di Lucrezia Donati e dedica a lei la vittoria peccato che fosse già stato sposato per procura perché già mai si sarebbe peritato di andare a Roma perché rimane a Firenze però aveva già sposato una romana Clarice Orsini degli Orsini romani perché i medici avevano bisogno di quella patente di nobiltà che non avevano in quanto altissima borghesia ma non discendenti di una qualche linea principesca e quindi imparentandosi con gli Orsini in qualche modo come dire da alta borghesia cominciano a diventare un po' più nobili di come sono e però ovviamente immaginatevi Lorenzo che a vent'anni è innamorato perdutamente della donna più bella di Firenze e si ritrova una bella donna romana però a Firenze che è come parlare del diavolo o della corda in casa dell'impiccato eccetera eccetera e quindi insomma da lì nasce tutto un problema per cui lui è sposato con Clarice che non ama minimamente ed è innamorato invece di Lucrezia insomma che è tra l'altro considerata da tutta Firenze come la donna che avrebbe dovuto sposarlo e lui tra l'altro a vent'anni che insomma ha ben altre cose in mente si ritrova a dover diventare signore di Firenze banalmente perché le famiglie più importanti di Firenze gli chiedono ma il sottotesto è impongono di diventare signore di Firenze perché chi se non lui e a lui non gliene fregava nulla e quindi il secondo romanzo è la storia di Lorenzo che in qualche modo si ritrova attribuito questo potere che non vuole e che deve comunque tutto sommato gestire con un problema anche sentimentale molto evidente con questo finale tragico di cui vi ho accennato con la congiura dei pazzi nel terzo e nel quarto romanzo arrivo all'ultimo che è appena uscito che esce oggi e devo dire che sono stato molto felice di aprire il mio tour a Isola Vicentina l'ho detto anche nel mio stato Facebook prima si citava lo stato Facebook ho detto questa sera sono qui e ho legato l'articolo che è uscito ieri con la bella intervista di Marco Marini per il giornale di Vicenza ecco tenete presente che anch'io sto un po' perdendo gli ultimi neuroni perché adesso a voi sto raccontando i quattro romanzi giovedì vado in Serbia Montenegro dove esce il secondo e qui è uscito il quarto quindi da una parte racconto il quarto dall'altra il secondo anch'io tra un po' non ci capisco più niente fatto sta che il quarto racconta la storia di Maria De Medici che fu anche lei come Caterina regina di Francia con un enorme problema però che è una fiorentina barra toscana italiana come volete chiamarla alla corte francese Maria parliamo di lei visto che è l'ultima in ordine di tempo sposa Enrico IV Enrico IV è quell'Enrico che aveva sposato in precedenti nozze Margherita di Valois già solo a orientarmi tra l'altro negli alberi genealogici ogni volta è da impazzire allora aveva sposato Margherita di Valois Margherita di Valois era figlia di Caterina De Medici Caterina De Medici è cugina di Maria De Medici ma restiamo su Enrico IV Enrico IV è quel re che se ricorderete e se non lo ricordate ve lo ricordo era campione degli Ugonotti ed era stato chiamato a corte da Caterina De Medici per sposare la di lei figlia Margherita di Valois di cui parlavo sorella di Carlo IX Enrico III eccetera perché li fanno sposare perché l'idea è quella di pacificare la Francia che è dilaniata dalle guerre di religione tra cattolici e Ugonotti o protestanti che dir si voglia insomma Ugonotti erano con questo matrimonio cioè l'idea è prendiamo il campione degli Ugonotti Enrico IV di Navarra e Margherita di Valois regina insomma principessa in realtà cattolica e con questo matrimonio in qualche modo risolviamo tutti i problemi della Francia peccato che l'idea sottostante sia che subito dopo il matrimonio la notte successiva anche qui i francesi dicono che l'ordine fu dato da Caterina Balle fu molto più complessa la questione perché c'era Carlo IX suo figlio che era una specie di pazzo sanguinario e che già di suo non è che fosse contrario a sterminare gli Ugonotti così si toglieva il problema c'era naturalmente anche lei c'era Enrico III che era un altro insomma figlio abbastanza di genere c'era Enrico di Guisa soprattutto che era un nobile che puntava la corona che anche lui era cattolicissimo insomma fatto sta che si mettono d'accordo e nella notte di San Bartolomeo subito dopo il matrimonio sterminano 40.000 Ugonotti in una notte tanto che per essere sicuri che non ne scappasse nemmeno uno fecero chiudere per 24 ore tutte le porte della città e li ammazzano uno per uno si salva Enrico IV perché eravamo partiti da di là perché Enrico IV si salva? perché lui che è Ugonotto dice tranquilli mi converto immediatamente si converte diventa cattolico e a quel punto ottengono il risultato Caterina e gli altri cioè hanno un principe Ugonotto che si va cattolico che sposa Margherita di Valois e arriviamo a Maria nel frattempo scusate nel frattempo nel 1589 Caterina muore era peraltro stata regina reggente perché i suoi figli erano morti prima di lei e quindi qualcuno il trono lo doveva reggere Enrico IV se ne va e torna con l'esercito scusate si converte dalla fede Ugonotta di nuovo torna in Francia con un esercito e sconfigge i cattolici a quel punto diventa re di Francia quando diventa finalmente re di Francia strappando la corona in Valois si converte per sicurezza al cattolicesimo quindi cambia quattro volte confessione ok bene arriviamo al 1600 nel 1600 finalmente arriva Maria De Medici che ha sposato Enrico IV di Navarra a questo punto cattolico Enrico che aveva guerreggiato in gioventù e che era un po' stanco di guerreggiare insomma si dava un po' alla pazza gioia al punto che tra le tanti amanti ne aveva una in particolare la sua favorita Henrietta del Traga alla quale aveva promesso in modo devo dire abbastanza così rischioso che l'avrebbe sposata qualora lei fosse rimasta di un incinta arriva Maria l'ha fatto con un contratto firmato con testimoni cioè voglio dire è tutto documentato non ho inventato nulla arriva Maria e Maria arriva con un problema enorme che lei è effettivamente la sposa legittima e quindi la regina di Francia ma la favorita nel frattempo appena lei nove mesi dopo che lei ha messo piede a Louvre tac è incinta è incinta Henrietta del Traga che dice io qua c'ho il contratto adesso mi sposi divento io regina quindi Enrico dice ma no era tutta una farsa eccetera e Maria immaginate come la prende ma resta incinta anche lei per sua fortuna e quindi Enrico a questo punto come dire si salva e io racconto un po' nelle prime 50-60 pagine diciamo questa prima situazione in cui poi vi spiegherò come questo contratto finisce grazie a Dio nelle mani giuste perché era chiaramente nelle mani sbagliate in tutto questo poi c'è una congiura a corte perché vogliono eliminare Enrico IV viene sventata non ci riescono lui peraltro continua ad avere le sue amanti lei come dire in qualche modo lo sopporta tra l'altro è anche una donna molto fiera perché sceglie è la prima regina a scegliere come dame da tour cioè come prima dama non una francese tanto per mettersi subito in buoni rapporti sceglie una sua amica fiorentina Leonora Galigai nessuno aveva mai usato tanto quindi ovviamente i francesi subito si levata di scudi eccetera eccetera e vi racconto un po' la volta la vita di Maria che fu una vita definire avventurosa è poco a un certo punto mentre sto studiando la sua vita nella bella biografia della professoressa Mariotti Masi scopro che sta attraversando il fiume su una chiatta in carrozza cioè lei sta rientrando a Parigi in carrozza con suo marito Enrico per attraversare questo fiume la carrozza viene spostata con i cavalli sulla chiatta il cavallo si imbizzarrisce la carrozza finisce dentro il fiume e il fiume era profondo tanto che lei rischia di annegare suo marito cavalleriscamente se ne frega nuota e si salva e lei finisce a picco fortuna vuole che vedrete qualcuno insomma qualche modo la porta arriva le fa le applica una sorta di respirazione bocca a bocca lei si salva e appena come dire torna a respirare la prima cosa che dice è come sta mio marito quindi una donna devo dire fedele e una regina vera insomma poi la storia continua e purtroppo nel 1610 Enrico IV viene assassinato da un pazzo Ravajac perché Ravajac era ugonotto Enrico era insomma cattolico per modo di dire però era pur sempre cattolico e quindi lui da ugonotto si era sentito tradito gli rifila due coltellate Enrico muore per sua fortuna aveva investito della reggenza proprio Maria tre giorni prima quasi se la sentisse un po' per cui Maria diventa un bambino di 8-9 anni divenga re ma re come dire con non dico la maggior età ma almeno la capacità minima di poter gestire le questioni del trono Maria sarà regina per 7 anni in questi 7 anni come dire insomma riesce a tenere in equilibrio il trono con una marea di guerre di religione che si susseguono 8 per l'esattezza e in qualche modo siccome sente di aver bisogno di un appoggio politico oltre alla sua dama di cui si fidava ciecamente che era Leonora Galigai e oltre a Concino Concini che è il maresciallo di Francia che lei nomina maresciallo di Francia anche lui toscano e che siccome sono toscani sono fiorentini sono francesi nel 1617 vengono entrambi massacrati così nel dubbio ce lo togliamo cioè lui viene massacrato a Louvre e lei viene condannata per stregoneria e impiccata se non ricordo male o forse le tagliano la testa però insomma nel libro l'ho scritta giusta la scena e quindi viene uccisa viene giustiziata nel frattempo Maria come dire aiuta a far carriera un giovane vescovo che è un soggettino abbastanza interessante perché di nome fa Armand Jean Duplessis duca di Richelieu il famoso famigerato cardinale di Richelieu che non è ancora cardinale ma lo diventerà lei in qualche modo se lo fa alleato le serve questa cosa perché il figlio che è un pazzo è un ragazzino ma cresciuto nel vizio nella follia totale di una corte di gente completamente fuori di testa diventa una specie di ragazzino sanguinario tanto che vi cito un altro fatto realmente avvenuto Luigi XIII re di Francia figlio di Maria e di Enrico IV a sette anni ritiene che un suo servitore sia vestito in modo non acconcio e ordina ai suoi archibugieri di giustiziare il servo perché era malvestito dicono beh insomma sì ci sembra una punizione un po' esagerata il bambino è talmente incattivito talmente arrabbiato ed è comunque il delfino cioè il principe francese che i soldati pur di farlo stare zitto di insomma togliersi sta rogna scusate del tecnicismo spara una salve il servitore finge di morire e lui è felice come una pasqua però il padre capisce che ci deve essere qualche problema e comincia a frustarlo per cercare di come dire metterlo sulla retta via ecco io vi racconto queste cose perché sembrano delle follie in realtà sono episodi storicamente documentati e realmente esistiti di questa nobiltà monarchia francese ma non solo perché poi insomma anche la faccenda dei pazzi voglio dire la congiura non è un fatto così edificante assolutamente incredibili fino a quando non li leggi scopri che invece sono avvenuti per davvero e per cui questo giovane ragazzo che diventa re di Francia quando muore suo padre e che poi governerà la Francia perché Maria governa per sette anni però poi lui compie diciott'anni e diventa molto amico diciamo così di questo duca di lui che è il suo favorito e questo lo manipola psicologicamente gli mette contro la madre eccetera eccetera per cui Maria viene esiliata quindi il figlio esilia la madre fa uccidere la prima dama di cui vi parlavo Leonardo Galigai e fa uccidere il maresciallo di Francia Concino Concini a quel punto finalmente è al trono diciasettene diciottene anche se in realtà non è lui a governare ma è il duca di Luin Maria viene esiliata nel castello di Bluat e grazie all'intercessione ai negoziati e all'opera del cardinale Richelieu viene liberata in una notte di vento e neve dal duca de Pernon e dalle sue guardie ed evade con una scala di corda più o meno sui 50 anni lei ha 50 anni e evade immaginatevi la regina dal castello di Bluat attraverso una scala di corda poi la imbragano in una cesta con delle cime eccetera eccetera riescono a calarla giù la mettono in carrozza e scappano un po' alla volta si apre un conflitto tra Luigi XIII e Maria e poi insomma attraverso tutta un'opera da parte del cardinale di Richelieu Maria viene fatta tornare a Parigi e torna ad essere regina di Francia accettata dal figlio eccetera eccetera mi fermo qui perché poi insomma il resto magari lo leggete però c'è ancora tantissimo da raccontare e Richelieu se ve lo ricordate è un soggetto di cui è bene non fidarsi dico soltanto che un altro grande protagonista di questo quarto romanzo un po' come nel secondo era Leonardo nel primo era Filippo Brunelleschi e nel terzo è Nostradamus in questo quarto romanzo c'è comunque una figura diciamo così legata al mondo dell'arte che è Peter Paul Rubens il grande pittore fiammingo non so se lo ricordate a cui Maria commissiona un ciclo di dipinti di 21 dipinti che lui realizza per il palazzo che lei si è fatta costruire fuori Parigi il palazzo del Lussemburgo perché il Louvre non le piaceva perché era un castello cupo pieno di guardi dove era stata ammazzata un sacco di gente le faceva tristezza solo l'idea di starci dentro e quindi si fa costruire il palazzo del Lussemburgo secondo i canoni fiorentini del palazzo Pitti e ci mette nella galleria mette le 21 hotelle che fa realizzare a Peter Paul Rubens di cui diventerà grandissima amica eccetera eccetera ecco questo per dirvi quanto poi le storie di queste due regine Maria da una parte Caterina dall'altra siano intrecciate sì con la storia della Francia ma siano poi fortemente influenzate dalla cultura toscana e direi più correttamente fiorentina perché anche qua altri episodi Caterina quando tutti pensano a un certo punto sono seduti a tavola lei ha questo cofanetto di legno chiuso il re è seduto i nobili sono seduti hanno tutti il calice di vino a metà per metà pieno lei ha questo astuccio che tira fuori e lo mette sul tavolo quando tutti lo vedono dicono siamo fregati questa ci ha avvelenato tutti è andata perché Caterina aveva fama di donna di ferro era fiorentina insomma i fiorentini erano noti per le arti dei veleni e quindi quando vedono che ha il cofanetto sul tavolo pensano il peggio in realtà dal cofanetto Caterina non estrae il veleno ma estrae ricordate che cosa a tavola a pranzo la forchetta la forchetta perché i francesi mangiavano ancora con le mani per cui Caterina porta in Francia per dirvene una la forchetta che si utilizzava a Firenze che era stata importata nel diciamo nella penisola italiana dai veneziani che l'avevano preso all'estremo oriente erano arrivati a Firenze e Caterina porta la forchetta Caterina porta anche il gelato i francesi manco sapevano cos'era il gelato Caterina va arriva a corte e si porta tutti i suoi mastri pasticceri e gelatieri tra cui Bontalenti che è un pasticcere del Mugello che realizza la crema ghiacciata e i francesi si entusiasmano per la crema ghiacciata e quindi anche insomma tutta sta cucina francese che ci fanno la testa così il papero al mela arancio che è una ricetta di Caterina dei Medici che era un amante della cucina è la famosa canara l'orange quindi per la verità vedete come sotto diversi profili anche per esempio della cosiddetta hot cuisine che dir si voglia l'influenza della cultura fiorentina ma direi più così ampiamente italiana è fortissima la scuola di Fontainebleau che è quella di Rosso Fiorentina di Primaticcia è una scuola italiana non è una scuola francese ecco questo e mi taccio anche perché probabilmente potrebbe esserci un crollo generalizzato oppure qualcuno mi fa una domanda oppure mi tirate le uova fatto sta che questo io ve lo dico per sottolineare con lo studio e con il racconto che ho fatto quanto è stata importante l'arte la cultura la pittura la stessa cucina la bellezza e il modello direi culturale italiano nella storia dell'umanità punto e tutte le fregnace che ci raccontano eccetera eccetera sono balle nel senso che tantissime cioè in tantissimi campi dell'arte ma ripeto di tutto ciò che è cultura ed è percorso antropologico come la cucina cioè qui in Veneto che ne so noi mangiamo i risotti magari non mangiamo il couscous per esempio è un motivo ci sarà ecco allora dico tutto questo in realtà nella Francia viene portato proprio dai medici e dalla cultura italiana e non solo in Francia ovviamente anche in Spagna anche in tanti altri paesi d'Europa grazie ai medici ma poi pensate ad esempio e qui chiudo davvero adesso mentre io vi racconto i medici sto scrivendo un nuovo romanzo che uscirà per Mondadori in primavera ed è dedicato alla figura di Giacomo Casanova pensate cosa è stato il barocco veneziano vi ricordate Goldoni Casanova Tiepolo Canaletto Tintoretto Guardi Vivaldi Tartini sono tutti là tutti in quel periodo e io mi chiedo ma insomma com'è possibile che questo paese non sia in grado di elaborare un modello economico fondato su un modello culturale vengo qui e sto in questa villa cioè non lo so dovremmo campare solo di questo però forse non ci sono le basi da parte dei nostri governanti per comprendere questa banale verità grazie beh innanzitutto mi hai bruciato una domanda quella sul meno male perché se no mi preoccupavo è una una chicca straordinaria evidentemente Mondadori ti commissiona i libri sul Veneto cosa stranissima no sono io che chiedo di poter raccontare secondo me si sono bruciati i medici perché questo lo è come rocker duck con paperoni questo non l'ho detto io che ecco quello dico io di sicuro perché il buon Raffaello Avanzini lo conosciamo e sappiamo che è un editore molto avveduto come fiuto sulle cose beh insomma avete capito che per scrivere questa curiosa stranezza matematica di questa trilogia che è fatta di quattro libri come i tre moschettieri che erano quattro esattamente e tu hai glissato un po' sul terzo ma in realtà appunto sono quattro di quello di cui stiamo parlando oggi c'è dietro uno studio fatto disperatissimo insomma anche un appassionarsi evidentemente a queste vicende e un'altra verità che è il fatto che come sempre la realtà supera la fantasia perché appunto metti pure che tu le hai enfatizzate metti pure che hai messo con grande sapienza di scrittore e di sceneggiatore tra virgolette cose che la rendono una lettura evidentemente appetibile e non considerarla una svalutazione ma facile nel senso che non è una cosa pallosa di storia però tutto rigorosamente documentato quindi questa è una cosa che è molto importante perché è una qualità rara negli scrittori ne abbiamo parlato anche l'altra sera tra l'altro con curiosissime analogie certi discorsi sono tutti fuori l'altra sera sulla fortetta che appunto è stata portata dalla Grecia ma le prime in presenza della fortetta si notano nel Salento e poi è arrivata al sud comunque vabbè e anche sui protestanti dove abbiamo parlato di cimbri e quindi siamo siamo vicini anche lì ad altre sette o comunque ramificazioni dei protestanti ma allora la domanda sul prossimo libro mi è avvicinata siamo effettivamente tutti molto ansiosi di vederlo di leggerlo perché ovviamente essendo una storia ancora più vicina a noi e alle nostre eminiscenze culturali io vi dico sinceramente che sono felice di aver avuto grande successo con i medici però vorrei avere un grande successo con un romanzo legato al Veneto esatto poi mi è piaciuta moltissimo questa riflessione giusta sull'influenza l'importanza del nostro paese e sull'altro tema che ovviamente con uno che vende libri e che dovrebbe vivere di cultura sfondo una porta aperta su questa logica dell'economia della cultura che questo paese effettivamente dovrebbe un attimo considerare in maniera più sistematica ma allora una domanda semplice poi caso se ci sono curiosità da parte vostra siamo ancora qui ma allora spiegami però come siamo passati il processo potrebbe essere abbastanza automatico quando un libro è successo ma come si è passati dalla carta stampata dal libro alla serie il passo potrebbe essere breve lo è stato oppure ha avuto una maturazione diversa e quanto hai dato di tuo e quanto è stato tolto di tuo il passo è talmente breve che in realtà la serie non è tratta dai miei romanzi quindi diciamo che la sensazione che ho avuto io tra l'altro anche intervistando lo sceneggiatore americano Frank Spodnitz che è lo sceneggiatore di X-Files per dire ricordo ho fatto una lunga intervista con lui per il venerdì di Repubblica e sono rimasto un po' devo dire basito quando a una mia ribadita insistita domanda sul ma che libri hai letto Frank su cosa ti sei basato io mi aspettavo che mi citasse almeno una storia d'Italia di Francesco Guicciardini per dirne una e lui mi diceva continuava a dirmi no ma abbiamo avuto tanti specialisti che hanno raccontato che hanno raccolto hanno letto hanno raccolto un sacco di saggistica di monografie eccetera hanno creato una specie di bibbia io mi sono basato su quello ho capito ma hai letto un testo che racconta me ne dici uno e lui non me l'ha detto ora è chiaro che ci si prepara la scrittura di una sceneggiatura cinematografica di serie tv in modo diverso da come si diceva un romano questo è evidente e credo anche che la serie tv abbia avuto come merito assoluto quello di arrivare comunque a 8 milioni di persone e quindi di aprire una certa sensibilità a questo tema che è il tema di rinascimento e il tema di medici e questo credo sia stato un grandissimo risultato dall'altra parte è chiaro che come dire quando vedi che Cosimo viene liberato perché Contessina arriva a cavallo dentro al palazzo vecchio insomma lì un po' grida vendete ti dici non è che proprio è andata così però alla fin fine è anche vero che secondo me alla serie tv non devi chiedere come dire la precisione non solo l'insaggio ma forse neanche del romanzo storico che vedo come una cosa a metà tutto sommato nel senso che diciamo io studio 100 per poi mettere nel libro 3 e dare a voi in realtà una storia che vi tenga il più possibile legati e agganciati alla lettura in questo senso cerco di far accadere cose ad ogni pagina cerco di avere una scrittura molto come dire positivamente leggera mi viene da dire quindi comunque lavorando molto sul ritmo su una sintesi per cui vi do dei dettagli ma non vi do 50 pagine sulla posizione di quel mattone nella cupola perché se no non ne usciamo vivi e anche perché penso che giustamente i lettori e anche i non lettori perché io punto a prendere anche dei non lettori sia mai che ci riusciamo secondo me alla fine della giornata quando hanno lavorato tutto il giorno magari hanno un quarto d'ora di tempo credo prima di dormire perché giustamente ognuno di noi è stanco credo possa essere una buona idea cercare di dargli una scrittura fresca veloce avvincente anche costruita in un modo che si ponga in una prospettiva del lettore quindi con dei capitoli magari più brevi che comunque ti danno la possibilità di sapere esattamente in che punto della storia sei perché non sei a pagina 5 del capitolo 2 che dura 60 pagine e domani nego altre 5 arrivo a 10 e poi dov'ero boh vabbè magari c'è un segnalibro però secondo me è più bello dire mi sono letto 2-3 capitoli hai letto 12 pagine 15 pagine magari però intanto quelli li hai messi da parte perché secondo me c'è anche una scarsa attenzione tante volte la parte dello scrittore nei confronti del lettore io lo dico da lettore che invecchia e che vuole avere magari il libro scritto un po' più largo che ha bisogno anche di essere aiutato a volte non vedo cosa ci sia di male ecco volevo come dire specificare o aggiungere una piccola glossa quando tu giustamente dicevi il passaggio al romanzo storico eccetera ecco e quindi per esempio anche mi viene a dire a questo punto Casanova che sarà forse un po' più avventuroso ma resta comunque un romanzo storico così come lo è stato la giostra dei fiori spezzati insomma il mio tentativo oggi come autore si diceva il romanzo storico non vende tanto eccetera ecco poi questi romanzi hanno dimostrato che in realtà si può vendere con il romanzo storico è proprio quella di raccontare l'Italia e quindi il rinascimento fiorentino il barocco veneziano nel caso di Casanova perché penso che sia molto poco raccontata paradossalmente siamo un paese con più storia credo alle spalle con buona pace il presidente Obama che arriva a Roma va al Colossio e dice che è grande come un campo da baseball che l'avrei picchiato solo per questa frase che è andata sul Tg ecco io sono fiero scusatemi di non appartenere a un popolo come questo preferisco essere italiano lo dico sinceramente aggiungo Veneto e quindi lo mangio a Casanova e a Venezia e insomma se non lo fa nessuno lo faccio io chi se ne frega voglio dire meno male che qualcuno lo faccia che qualcuno prova a raccontare le storie che ci appartengono non capisco perché le dobbiamo leggere sempre da Dan Brown tu sostanzialmente confermi quanto ci siamo detti anche l'altra sera con il nostro ospite cioè questa differenza tra la letteratura erudita nel suo caso tra romanzo storico e romanzo erudito allora c'è il romanzo storico infarcito di erudizione e c'è il romanzo storico che partendo da una ricerca rigorosissima si pone nei confronti del pubblico in maniera più agile e questo hai perfettamente ragione a raggiungere lo scopo come dicevo l'altra sera di raggiungere l'altra metà della luna cioè di coloro che magari sono più timidi nella letteratura pensiamo a un romanzo sicuramente colto ma in realtà molto popolare come la chimera di Vassagli io ricordo quando l'ho letto fu un romanzo che raggiunse un pubblico amplissimo vinse il premio strega però era un romanzo che aveva una grande struttura che aveva una grande lingua ma in realtà poi raccontava dei fatti ecco lui la scelta di Vassagli fu di raccontare un certo tipo di realtà con dei personaggi minori o comunque non raccontati nella storia ma lui stesso per primo dice io uso la storia e nella storia in qualche modo inieto l'invenzione fantastica che è esattamente quello che provo a fare con questa tetralogia a questo punto sui medici si parva lì sia ben chiaro oppure mi vengono in mente i vari Dumas il romanzo d'appendice per certi aspetti ecco quello è che non so se è raccolto o non è raccolto però era popolare e quindi in qualche modo anche qua ma perché la cultura deve essere sempre una palla infinita per cui ci sono da una parte i professori e dall'altra non so bene chi diciamo il popolo e c'è un abisso che li divide ma perché non possiamo fare delle storie che magari leggono entrambi e soprattutto proprio perché di cultura stiamo parlando dovremmo cercare invece di avvicinare le persone con dei temi condivisi perché cultura è condivisione è diffusione di amore per la lettura non è io leggo e tu no ma siamo pazzi cioè dovrebbe proprio essere il contrario e quindi lo sforzo è questo cioè dire giustissimo sono d'accordo partire da una ricerca insomma il più possibile ricca attenta però cercando anche di avere quel ritmo quel tiro in qualche modo da romanzo popolare questo mi interessa questo lavoro che evidentemente i numeri lo dimostrano è apprezzatissimo se ci sono domande da parte vostra se no l'autore è a vostra disposizione se volete farvi firmare le copie che avete già qualcuno l'ha visto già prima che si è preso avanti e quindi a voi anzitutto grazie per la tua presenza qui dunque Firenze durante il rinascimento è indiscutibilmente stato penso il punto di riferimento a livello mondiale la città più importante in assoluto i medici hanno di fatto governato Firenze da 150 anni 303 no 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 diciamo da Cosimo il vecchio a Caterina dei Medici sì anche se poi in realtà ho capito cosa vuoi dire è vero che il periodo di governo di Firenze come dire la decadenza diciamo parte in effetti dal 1600 e va fino al 1750 partendo diciamo così da Francesco I barra Ferdinando II lì comincia la parabola discendente per cui è vero quello che dici tu e cioè che in realtà il periodo di massimo di quindore sono stati i primi 150 anni però poi paradossalmente ce ne sono altri 150 comunque andiamo quindi di fatto secondo la tua opinione i medici sono stati la famiglia sicuramente più influente in Italia ma anche penso bello europeo a questo punto io penso mondiale anche perché dall'altra parte stavano ancora a scoprire l'America insomma quindi cioè no con tutto il rispetto tra l'altro voglio dire non da europei giustamente e quindi no sicuramente credo che sia stata la famiglia dinastia più importante penso della storia poi non lo so voglio dire ricordiamoci l'antica Roma le varie Iens eccetera eccetera Claudia Fabia eccetera gli imperatori però insomma come famiglia come dinastia faccio fatica a immaginare una famiglia più importante soprattutto poi per quello io adesso forse stasera l'ho sottolineato meno però immaginate l'importanza che hanno avuto i medici ma anche gli strozzi gli albizi i pitti insomma ce ne sono tante di famiglie illuminate anche se poi combattevano fra di loro ogni campanile era contro l'altro un classico toscano anche se non sono toscano però che finanziavano tantissimo poi questi c'è il motivo per cui nell'arco di 30-40 anni a Firenze tu hai un florileggio di artisti ma di riferimento assoluto nella storia è proprio legato al fatto che c'è questo come vi dicevo prima questa volontà di condividere la bellezza l'arte con tutte le classi della città della signoria che poi diventa repubblica per cui la cupola questa cosa straordinaria realizzata da Brunelleschi che ricordo era un orafo non era né un architetto né un ingegnere quindi questo ti dà la dimensione del genio cioè un orafo che si inventa una soluzione per una cupola che per cent'anni non viene costruita e addirittura oggi hanno fatto una serie di calcoli per cui provando ad applicare quelle tecniche non sarebbero in grado di costruire la cupola del Brunelleschi per dire ecco quindi davvero costituirono un modello economico e culturale che poi venne esportato in tutto il mondo e quindi da questo punto di vista sì ti direi è stata la dinastia più importante della storia nel mondo qualcuno anche di tantissimi infatti ovviamente Lorenzo Domedici sì certo Marsilio Officino l'Accademia Neogalileiana certo secondo te negli anni 2000 il mecenatismo è cambiato una domanda un po' ma è un mecenatismo che secondo me adesso non voglio dire che non c'è più però allora io la sensazione dunque su questo voglio essere chiaro non è che poi i medici fossero dei santi cioè io penso che tutta una serie di meccanismi politici regati anche a corruzione a scambio di voto insomma cose che conosciamo un po' le hanno anche inventate loro cioè voglio dire non è che sono dei puri cioè a un certo punto Lorenzo voleva impadronirsi delle cave di allume l'allume serviva per la cardatura della lana loro avevano due importantissimi laboratori di lavorazione della lana tant'è vero che venivano definiti in modo così sprezzante dei loro avversari i pecorai del Mugello perché venivano dal Mugello e quindi oltre alle banche avevano appunto i lanifici e per procurarsi l'allume di rocca che serve per la cardatura della lana Lorenzo assolda Federico da Montefeltro e lo manda a Volterra per impadronirsi delle cave e fa assediare Volterra e Volterra cade e Federico da Montefeltro rade al suolo Volterra e massacra uomini donne e bambini e quando torna a Firenze questo fatto tra l'altro è emerso da ricerche e studi recenti degli ultimi 4-5 anni la come dire il commento di Lorenzo a questo eccidio è grosso modo sono danni collaterali insomma questa è stata come l'ha affrontata lui per cui voglio dire poi era un discreto figlio di monadonna voglio dire però ecco è vero che a fronte di tutto questo insomma tutto sommato ce l'abbiamo anche oggi nel senso che la pars destruens purtroppo insomma gli scandali sono all'ordine del giorno lì c'era invece come dice giustamente tutta la parte di mecenatismo oggi non lo so faccio fatica cioè vedo che ci sono la sensazione che ho io girando l'Italia è che ci sia molta più spinta e molta più molto più investimento di tempo delle limitatissime risorse che ci sono di luoghi e di messa a disposizione da parte delle piccole ecco questo sì dei piccoli enti i comuni senza dubbio e mi viene a dire più di provincia cioè io sto girando la provincia e ci sono come dire incontri bellissimi almeno per me poi per voi spero anche per voi ma insomma per me di sicuro come questo in altri paesi prima dicevo non so Riese Pio Decimo quando metto Riese Pio Decimo mi domano dov'è Riese Pio Decimo ed è subito dietro Castelfranco non c'ero mai stato anche lì vado in una villa faccio questa presentazione dico ma chi cavolo viene a vedermi a Riese Pio Decimo e c'è una sala con cento persone arrivano con tre quattro libri l'uno dico madonna ma i lettori si sono chiusi tutti a Riese Pio Decimo poi non ce ne sono più in Italia però qua sono venuti tutti qua e come a Riese Pio Decimo mi è successo in altre non so sono stato a Fratta Polesine ad Arquapolesine sono tutti lì che leggono grazie a Dio insomma in Veneto ancora abbiamo insomma un buon pacchetto di lettori a dispetto di come a volte veniamo dipinti invece secondo me siamo un popolo di lettori di persone molto più colte di quello che si dice con una certa facilità e faciloneria e però appunto io vedo che c'è molta più attenzione molta più come dire molto più mecenatismo e attenzione alla cultura da parte secondo me dei piccoli comuni faccio a volte più fatica nelle grandi città nel senso che poi per carità vado a Book City a Milano adesso avrò questa presentazione al Castello Sforzesco nella sala Vincontè a posto bellissimo anche l'anno scorso sono stato c'era tantissima gente però vedo che c'è più sensibilità più attenzione altro giorno eravamo a una presentazione non mia a Correzzola c'erano il sindaco l'assessore alla cultura erano tutti seduti e insomma pendevano dalle labbra di chi parlava che probabilmente era molto più orato di me ma al di là di questo c'è un'attenzione che io non trovo se vado a Padova voglio dire cioè sì è la mia città però ecco forse il mecenatismo di oggi è un automecenatismo in cui ci autofinanziamo e in cui facciamo iniziative perché tutto sommato grazie a Dio c'è ancora speranza per questo paese però mi sembra una speranza che nasce si grebbe dal basso io poi non ho ben capito dove sta il basso e dove sta l'alto fatto sta che insomma nasce dal tessuto ecco sociale questo sì perché forse ci rendiamo conto che come dire la lettura le mostre eccetera i concerti magari sono quelle cose che ci salvano dalla barbarie che ormai è prossima ma non siamo ancora arrivati lì ecco grazie prego bene il signore in Germania sì 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 questo è un mistero cioè allora per darvi idea della illegibilità del mercato per quanto mi riguarda allora sono quattro mesi e mezzo che il primo dei medici è in top ten da quattro mesi e mezzo di fila in colombia perché non lo so è uscito in Germania è uscita tutta la trilogia è andata immediatamente in classifica però lì almeno mi dicevo vabbè i tedeschi sono grandi lettori amanti della storia italiana tra l'altro più di noi perché qualcuno mi ha detto anche Struckel dovevi fare un libro più approfondito perché loro vorrebbero 700-800 pagine al libro ho detto vabbè ragazzi allora impiccatemi e va bene perché il tedesco vuole imparare insomma e questo è meraviglioso da un certo punto di vista però insomma lì magari me l'aspettavo mi dicevo vado questa settimana vado in Serbia perché mi scrive l'editore serbo dicendo grande successo dei medici in Serbia in Montenegro se ti va di venire alla nostra piccola fiera dico vabbè vengo alla fiera di Belgrado 150.000 biglietti staccati cioè una volta e mezzo il salone del libro di Torino quindi voglio dire scopri che nel mondo la gente legge e si appassiona evidentemente a una storia italiana aggiungo mi piace pensare raccontata da un autore italiano questo è quello che in Spagna il libro è andato comunque bene in Turchia non ne ho la più palida idea in Olanda sta andando bene adesso è uscito in Repubblica Ceca in Slovacchia mi hanno invitato ho detto scusate ma mi hanno appena invitato in Serbia vengo l'anno prossimo perché non ce la faccio per cui allora la sensazione che ho io è che come sempre noi abbiamo l'oro e però sembra che boh abbiamo la plastica l'ottone e tutti gli altri ci invidiano e vogliono leggere queste storie qui tant'è vero che gli americani e gli inglesi che sono più furbi queste storie le raccontano loro e non le raccontiamo noi e quindi a questo punto le racconto io e probabilmente è stata anche una buona idea insomma grazie a tutto il lavoro di Newton Compton cioè questa è la sensazione poi nello specifico non so dirti come vai in Colombia sono impazziti però boh sono quelle cose io penso legate al fatto di avere una grande storia raccontata con grandi personaggi tutto sommato da un autore che per esempio a Firenze dice prendo il treno vado a Firenze prendo in mezz'ora sono a Venezia mentre insomma per un autore americano lui me la può raccontare come vuole però per lui è un po' più complesso poi magari si compra una casa e buonanotte però comunque non capisce la lingua a meno che non la studi come un pazzo perché non è nato con quel background culturale non ha quell'eredità insomma come se io raccontassi la storia di Fortalamo questa è una simpatica devo dire molto anche divertente definizione che mi ha dato Nicolai Lilling in una sua recensione su tutolibri insomma io lo ringrazio però ecco cacciatore siberiano faccio fatica al massimo potrei essere ma neanche un cacciatore nell'altopiano dove però probabilmente faccio anche fuoco incrociato mi sparano nel senso sono impegno ecco sono cacciatore di funghi un fungaiolo questo sì però insomma da qui al cacciatore siberiano è lungo scusate durante l'introduzione si diceva che lei viaggia tra Italia e Roma sì è vero se non rispondo o se è una cosa personale no no certo allora in realtà io vivo in Italia vivo a Berlino dove abbiamo una casa insomma amiamo tantissimo Berlino l'ho sempre amata un sacco anche mia moglie abbiamo preso una casa lì e appena possiamo soprattutto devo dire ultimamente in estate è un po' più fresco ci rifugiamo lì però è verissimo che siamo stati siamo tornati e torneremo in Transilvania quindi a nord della Romania quando ho detto Transilvania sembrava avessi detto Monazelanda in realtà o forse anche Marte in realtà la Transilvania da Treviso lo sapete perfettamente Witzer un'ora un quarto e sei in capitale di Transilvania Cluj-Napoca città stupenda perché? perché è un paese bellissimo la regione Transilvania in particolare secondo me è straordinaria se non ci siete mai stati fateci un salto vi affittate l'auto la girate in dieci giorni ci sono delle città favolose con centri storici meravigliosi ma anche con un'età media di non so 27-28 anni con una vita pazzesca con un sacco di club con ma poi soprattutto oltre a queste bellissime città come Cluj come Brasov come Sibiu esci e ti sembra di entrare nel 1600 cioè castelli chiese fortificate villaggi bellissimi e poi c'è una dimensione umana che a me mancava molto perché insomma la possibilità di parlare con un parcheggiatore o un casellante e non sto scherzando per me è una libidine perché io scusate ma tutto sto automatismo oggi stavo venendo tac casello self-service ogni volta oppure la macchina non mi viene adesso ecco grazie non lo so ho l'idea che mi metto mi scarico l'app per il parcheggio e mi scarico l'app per il biglietto e non posso più parlare con un'operatrice o con un parcheggiatore o con cioè mi manda fuori di testa lì invece c'è la possibilità di avere un rapporto umano con le persone in più cioè ti sembra di stare in una cartolina del 600 cioè sembra di entrare fai un viaggio nel tempo nel senso che da una parte c'è proprio questa natura intatta meravigliosa poi c'è i Carpazzi voglio dire insomma una roba incredibile e poi hai queste città fantastiche che sono meravigliose come centro storico ma che poi hanno sono anche molto ricche perché per dirne una la Nokia ha deciso di spostare la sua sede non finlandese dalla Germania acclusione a poca per dire e poi ci fanno un festival di cinema bellissimo ho trovato anche se io poi viva la mostra del cinema di Venezia però insomma anche il festival di attrazione è molto bello è uno dei film famosi possiamo ringraziare Matteo Struccul per la sua generosa presentazione e le cose che ci ha raccontato e ci auguriamo fortuna ovviamente tendiamo ansiosi vivo su Casanova e dintorni che hai detto esce in primavera nel 2018 oggi esce quello nuovo quindi dobbiamo dare un po' di tempo per via che lui ci mette tanto stanno andando a un ritmo notevole sì infatti mi sento come Salgari speriamo di non finire così complimenti ancora grazie a tutti voi e se volete i libri sono là in fondo grazie grazie infinito